vogliamo rivolgerci alla parola di dio nell'evangelo di giovanni al capitolo 8 dal verso 28 leggeremo 28 e 29 giovanni capitolo 8 giovanni capitolo 8 dal verso 28 così è scritto nell'evangelo di giovanni al capitolo 8 dal verso 28 leggiamo insieme gesù dunque disse loro quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me ma dico queste cose come il padre mio mi ha insegnato e colui che mi ha mandato è con me egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono questa affermazione di gesù trova conferma non solo perché sappiamo che il signore gesù è la verità e ciò che egli pronuncia è sempre vero ma troviamo una conferma meravigliosa di questo passo in ciò che il signore dio padre ripete rispetto al figlio dicendo questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto e più volte parla del compiacimento gesù faceva le cose che piacevano al padre e il padre si compiaceva nel figlio e in questa relazione di amore reciproco la gloria di dio si è manifestata in maniera straordinaria ma tutto ciò che ha spinto gesù nel compiere appieno la volontà di dio e di vivere ogni aspetto della sua vita solo all'interno della volontà di dio compiendo il volere del padre perfettamente tutto ciò che lo ha motivato era una sola cosa l'amore principalmente l'amore per il padre e poi l'amore per noi egli infatti compie appieno il volere del padre per amore suo per la nostra salvezza quindi egli ha amato il padre ed amato anche noi ora per noi è importante entrare in questa in questa visione della relazione con dio perché tutto ciò che viviamo tutto ciò che facciamo in vista di dio deve avere questo unico fondamento purtroppo noi viviamo in una cultura in una nazione che è intrisa di ritualità è piena di riti la religione è formale non è relazionale non si parla della ricerca di un rapporto con dio dell'amore per dio si parla semplicemente di osservare alcune cose meccanicamente anche la preghiera viene presentata in forma meccanica no ripetitiva ossessiva ma non relazionale ora alcuni affermano che questa questo tipo di preghiera possa stabilire una relazione ma noi sappiamo che non è così noi stiamo parlando di dio padre che per mezzo dello spirito entra in profonda e perfetta comunione con noi come la parola di dio insegna come cristo ci ha insegnato come gli atti degli apostoli hanno dimostrato e allora noi rischiamo proprio per eredità culturale di scivolare a volte in ciò che è meccanico ma non esiste niente di meccanico nel nostro rapporto con dio l'amore come dicevamo qualche tempo fa l'amore è fondato è strettamente legato all'obbedienza la fede è legata all'obbedienza quindi amore fede obbedienza vivono in questa relazione viva con dio ed è una relazione che si deve fondare uso questo termine poi lo spieghiamo sulla frequentazione di dio non si può amare intensamente qualcuno al di sopra di ogni cosa e non frequentarlo mai la comunione con dio diventa il cardine il termometro la misura per constatare la realtà della relazione che noi abbiamo con dio la realtà della nostra comunione con lui la realtà della nostra passione amorevole che ci lega a lui ed ecco allora che l'esempio più glorioso che abbiamo chiaramente rimane e resta sempre quello del nostro signore gesù cristo voglio farvi un esempio prima di trattare la la relazione tra gesù e il il padre immaginate il rapporto tra un padre coscienzioso buono amorevole premuroso verso un figlio piccolo diciamo di dieci anni i quali vivono un rapporto di profondo amore reciproco e immaginate il padre che accompagna il figlio nelle sue attività sportive e non solo lo accompagna ma sta lì ne gode i progressi lo osserva con gioia e sempre lo incoraggia sempre lo conforta nei momenti in cui magari le cose vanno vanno male ma è sempre fiero di lui è sempre presente viva con intensità e il figlio vive questa sua attività sportiva assieme al padre con grande entusiasmo grande gioia immaginate poi che il padre a causa di lavoro debba trasferirsi durante la settimana e quindi pur rimanendo quel padre premuroso non possa più accompagnare il figlio nelle attività sportive dopo qualche tempo dopo poche settimane il padre scopre che il figlio ha lasciato lo sport e se ne stupisce e gli dice come mai hai lasciato lo vivevi con tanto entusiasmo lo vivevi con tanta gioia perché hai abbandonato e immaginate che il figlio risponda a questo modo l'ho fatto perché è mancata la parte più importante e bella di quel momento la tua presenza ciò che mi dava gioia era condividerlo con te ciò che mi dava gioia era il tuo sguardo il tuo sorriso il tuo abbraccio la tua compagnia la bellezza del tempo trascorsa con te tu eri la cosa più bella di quell'attività poiché manchi tu quell'attività si è suo significato una bella confessione d'amore vero ecco cristo visse ogni aspetto della sua vita con questo sentimento lasciò il cielo perché questo era gradito al padre crebbe sottomesso ai suoi genitori sulla terra perché perché questo era gradito al padre e tutto ciò che visse tutto ciò che fece lo fece per amore per il padre e il tempo speso in preghiera non era semplicemente un dovere religioso era il piacere di trascorrere tempo con colui che il suo cuore ha amato al di sopra di ogni cosa ed è questo il senso che dio vuole trasmettere a noi quando dice che il primo comandamento tra tutti il più grande tra tutti è amare dio ma amare vuol dire stabilire un rapporto e trovare gioia come nell'esempio che vi ho fatto nel vivere ogni aspetto con lui vedete molte volte il cristiano si muove quasi a tastoni nel nel nella vita no e e magari intraprende un'attività o fa una scelta importante nella vita e dice ma speriamo che dio sia d'accordo no e comunque prosegue nella sua vita ma questo non è il senso questo è lasciare dio fuori dalla tua attività quello che tu compi quello che tu fai le grandi e le piccole scelte della tua vita dovrebbero essere sempre vissute con la gioia della compagnia del signore con la certezza che dio si compiace in quel che fai non tirando una monetina in alto e dicendo ma speriamo che questo sia gradito a dio non è questa la relazione che dio intende noi ci rivolgiamo a lui e cerchiamo il suo volto perché vogliamo vivere intensamente la nostra relazione con lui come un padre che si compiace nel figlio e come un figlio che si compiace nel padre in altre parole chi ama dio al di sopra di ogni altra cosa non gli basta fare le cose che gli piacciono a lui piacerà fare solo le cose che piacciono a dio e c'è una bella differenza ma sapete io voglio dirvi qualcosa predicavo ieri a bel monte riguardo alla all'amore di dio che lo spirito santo rivela ai nostri cuori come padre quando l'apostolo paolo scrive nel capitolo 5 che l'amore di dio è sparso nei nostri cuori per lo spirito santo quando ancora nel capitolo 8 parlando dell'amore paterno che il signore ha con noi dice che lo spirito di dio attesta o testimonia con il nostro spirito che siamo suoi figli o che lo spirito di adozione ci spinge a gridare verso il padre abbà padre io voglio dirvi questo se io e te cominciamo a fare sul serio nella ricerca di dio questo amore meraviglioso verrà reso chiaro per mezzo dell'opera dello spirito di dio e quando la potenza di questo amore sarà riversata in modo miracoloso nei nostri cuori perché di questo stiamo parlando non solo della conoscenza che chiaramente dobbiamo ricercare nella parola di dio che è il nostro fondamento ma quando per mezzo della comunione con dio egli riverserà in noi la consapevolezza di quale grande immenso straordinario potente amore ci lega a lui beh allora io vi dico che voi non vorrete fare nient'altro che io non vorrò fare nient'altro se non quello che piace a dio il signore gesù poter affermare in modo perfetto la questa poter fare in modo perfetto questa affermazione perché faccio sempre le cose che gli piacciono e noi sappiamo che questa frase si è adempiuta perfettamente nel signore ma anche noi possiamo anche noi dobbiamo anche noi dobbiamo cercare questo poiché questo è il primo tra tutti i comandamenti è il primo ed è quello che renderà speciale gloriosa la tua vita la parola del signore dice nella prima lettera di pietro pietro scrivendo ai credenti a cui la lettera era indirizzata dice qualcosa di meraviglioso dice voi state attraversando dei periodi di prova di grande difficoltà di tribolazione ma rimanete saldi e malgrado queste prove voi gioite anzi giubilate in lui e gioite di una gioia ineffabile ma che meraviglia è questo in mezzo ai problemi le difficoltà la testimonianza che lo spirito di Dio rende dell'amore di Cristo in noi ci fa gioire in modo perfetto ecco fratelli io credo che sia aggiunto questo sia aggiunto il momento a questo punto di di fare delle scelte nella nostra vita cioè di indirizzare la nostra esistenza nella disciplina nella ricerca concreta nella consacrazione di questa realtà che è nostra fratelli sorelle quando noi ci rivolgiamo alla scrittura e la analizziamo a fondo e scaviamo in essa e ci dilettiamo in essa noi scopriamo che la grazia di Dio è smisurata in grandezza per noi e che il suo amore eterno e infinito le sue braccia eterne sostengono la nostra vita ed il suo desiderio è quello di riversare su di noi l'immensità dell'abbondanza della sua grazia e del suo spirito ora come mai tutto questo è vissuto così debolmente nella maggior parte dei credenti c'è bisogno di riscoprire l'amore di Dio in modo da sperimentarlo c'è bisogno di indirizzare la nostra vita verso la ricerca di questo amore profondo e di cominciare a dire signore voglio conoscerti realmente voglio sentire l'influenza e la guida del tuo spirito poiché tutti coloro che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio e se siamo figli noi vogliamo avvertire la presenza dello spirito che ogni giorno ci conduce mediante le scritture mediante la sapienza nel modo sovrannaturale che solo il Signore sa fare ma vogliamo vedere che la nostra vita è guidata e noi vogliamo piegare la nostra vita alla sua guida perché perché noi ci compiaciamo di fare ciò che compiace Dio questo è il senso e laddove noi ancora non sappiamo afferrare gridiamo a Dio e diciamolo Signore ho bisogno di amarti e se la mia vita non è guidata da te ho bisogno che il tuo spirito venga perché senza la tua guida io sono lontano sono perduto sono vagante senza una meta né una direzione non potrò raggiungere nessun porto Signore ho bisogno di ristabilire in modo concreto reale la comunione con te se c'è una caratteristica che identifica la chiesa del primo secolo e ogni chiesa nel quale lo spirito di Dio ha mandato un risveglio è che lo spirito del Signore si muoveva in mezzo alla chiesa ma muoveva la chiesa e la chiesa non desiderava altro che vedere la manifestazione dello spirito è essere mossa è essere mossa dallo spirito ma questo è ciò che la grazia in Cristo Gesù ci ha già acquistato sorelle fratelli rivolgiamo la nostra vita come un sacrificio vivente orientiamo la nostra esistenza verso questo amore chiediamo a Dio dammi un traguardo glorioso e irraggiungibile per le mie forze fa che io faccia sempre le cose che ti sono gradite e fa che io possa vivere ogni esperienza nella tua approvazione riesco a spiegarmi non voglio fare le cose che mi piacciono voglio fare le cose che ti piacciono per questo non ti chiedo di venire ad approvare la mia volontà ma ti chiedo di rivelarmi la tua volontà affinché io mi possa dilettare in essa ed essere oggetto del tuo compiacimento la parola di Dio esprime qualcosa che sfugge alla nostra comprensione e non credo che nessuno potrà mai afferrarla a pieno ma la parola di Dio afferma che noi siamo la gioia di Dio come si compiacque nel figlio egli brama compiacersi anche in noi e questo è strepitoso è straordinario è meraviglioso ma è anche alla nostra portata fratelli e cosa nostra ce l'è stata data ci appartiene siamo figli abbiamo un padre che ci ama perché trascurare questa relazione molti vivono la loro vita nel dolore nella sofferenza per un rapporto sbagliato con i genitori oggi noi abbiamo un padre che non sbaglia mai e ci ama di un amore perfetto come potremmo mai trascurare questo dono ineffabile che in Cristo Gesù ci è stato fatto di essere chiamati figli di Dio e allora c'è la ricerca dell'intimità c'è la ricerca del suo spirito c'è la fame della sua parola perché mi rivela chi il mio Dio è e c'è il desiderio di vivere esperienze nuove con il nostro Signore perché la promessa è che Cristo il Padre lo Spirito Santo si sarebbero manifestati a tutti coloro che nell'obbedienza lo hanno amato e lo amano e allora fratelli io credo questo questo è ciò che dà forza alla mia vita in questi giorni credo che dinanzi a noi ci sono offerte possibilità gloriose che nessun traguardo su questa terra potrà mai minimamente eguagliare la nostra relazione con Dio vissuta oggi ma proiettata per l'eternità dov'è la nostra vita la nostra vita è custodita con Cristo in Dio e in Dio io voglio viverla in Lui non al di fuori di Lui non intorno a Lui ma in Lui facendo le cose che gli sono gradite perché io vi dico che la vera ricchezza di ogni uomo sulla faccia della terra non è raggiungere i grandi altissimi traguardi che questo mondo indica come gloriosi ma il vero traguardo di ogni credente è essere approvato da Dio è lì che c'è l'esuberanza della mia e della tua vita e se noi viviamo in questa realtà io vi dico che la tua vita la mia vita sarà diversa che la realtà della chiesa sarà completamente rivoluzionata e diverrà qualcosa di glorioso perché lì Dio glorioso si manifesterà e si compiacerà in noi spero che la parola del Signore possa avervi se non altro dato un accenno a questo tema meraviglioso ma questo è il modo in cui io e te dobbiamo vivere la nostra esistenza perché ma perché è l'unico senso che il cristianesimo possa mai avere ed è il primo tra tutti i comandamenti ama il Signore Dio tuo con tutta la mente con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le tue forze grazie